Hola io sono Marco Scrone e signore e signori bentornati nella Hold The Mod Nell'ultima puntata siamo riusciti finalmente a fare una farm efficiente E io come promesso ho lasciato un paio d'ore mentre cucinavo la farm a FK Vi dico le migliorie che ho fatto Ho pensato ma tutta quelle orb Perché non ci mettiamo l'experience solidifier Ok guardate qua Ci sono 11 stack da 64 e 49 Cioè questa è tutta esperienza ragazzi Questa è tutta esperienza ok Va bene In più il mob grinder uccide i mob E l'advanced hidden collector li prende Prende gli oggetti che finiscono qui dentro Abbiamo 3 stack di ossa Qui abbiamo 4 stack di campowner E qui sono pieno Sono pieno quanto la merda L'avevo lasciato a 3 Adesso sta a 16 Gli enderman sono molto rari e non sempre droppano Però ragazzi guardate il ben di dio Guardate il cazzo di ben di dio Per non annoiarmi Visto che stavo a FK e non volevo metterci la batteria Ho portato il cavo fin qua giù Ora non ho idea Perché ho ripreso a registrare da qua Non ho assolutamente idea Uh ma che c'è la luna rossa? Oh shit C'è la luna rossa ragazzi Beh allora rimaniamo dentro casa Che è molto 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 better Vediamo un po' se ce la fa Ce la fa Non consuma un cazzo C'è Wow Wow davvero Andiamo l'Ender Pearl signori Andiamo l'Ender Pearl Fantastico Ok Oggi voglio fare Ecco qua La Refined Storage Ho già fatto un mod spotlight su questo E vi dico che c'è sia questa qui Che è una copia dell'Uplied Semplice Che è una copia dell'Uplied Più compressa Che è la Correlated Vediamo un po' se mi ricordo Potenzialistic Ecco qua Mi sembra più facile C'è più middle game Dove siamo noi La Refined Storage Quindi andremo a fare questa qua Non ho capito perché se tolgo Ecco qua Allora Questa mod vuole il silicone Il silicone però Questo qui si ottiene soltanto Quello dell'Ender Ayo Si ottiene soltanto con il suo milito Dell'Ender Ayo Invece quest'altro Si ottiene con Lo smelting Del bellissimo Quarzo Quindi non ci dovrebbero essere problemi Non ho così poco Quarzo vero E infatti no Abbiamo fatto parecchie Spedizioni punitive Nell'Ender Per permetterci Di avere un po' di quarzo Soltanto questo Scusate Ma davvero Mi state dicendo Davvero 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 tutta Sta merdaccia Va bene Va bene Va bene Non vi preoccupate Facciamo tutto Non vi preoccupate Allora intanto mettiamo A smeltare un bel po' di quarzo Eccolo qui Poi ci servono Che cos'è questo Ah se ci clicco Vi fa vedere la lava Oh figo Ci serve un diamantollo Eeeh Uh Quarzo Riched Alloy Accidenti Accidentaccio Questa cosa Non l'avevo notata Non che io mi informi molto Prima di iniziare la mod Altre ti dopo Non ci trovo gusto io Quindi Va bene Facciamo un pochino Dai Quindi Per questa mod Devi essere andato nel nether Ok Quindi noi siamo Abbastanza paro Dai Prendiamo il silicone Abbiamo il quarzo Abbiamo No Dobbiamo fare questo Eccolo qua Io direi di farne tre E a questo punto Facciamo un altro po' di questo Tanto il ferro ci avanza Non è un problema Che cosa è successo? Non ho capito Le passo mio marito Facciamo così E Giusto Non è l'upload Sono troppo abituato alle altre serie Ecco Adesso ci siamo Allora Il controller Un controllerino Per ora lo mettiamo qui Ciao controller Non è energia Giustamente Tu dici A stronzo Vediamo che succede Se invece Ti metto qui Il controller Si carica E appare un grosso punto interrogativo Che adesso scompare Va bene Non ti preoccupare Andremo avanti Qui c'è il creative controller Che ovviamente non si può prendere Il crafting grid Interessante Bisogna fare il grid E poi bisogna fare questo qui Basic processor Dentro il solderer Eccolo qua Il solderer Merda Merda ragazzi Come faccio A La rotten Perl Cioè La pera La pera rotta Slime in a bucket Non ho idea Come si fa questa Boh Ha una certa Marcisce Ragazzi Come facciamo a ottenere Ah intanto Dumpa tutto qua sotto Come facciamo a ottenere Quella roba Non ne ho idea Davvero Davvero Non lo so Io sono Continuo a essere Pienissimissimissimo Questa è della ref tools Non ci aiuta Allora Quello lì vuole qualcosa Di solito È compatibile Lo sticky piston Sticky piston Dovrebbe essere compatibile Che cos'è questo? Sticky propolis No Con La gomma La gomma da masticare E invece no E invece no Slime ball Vuoi le slime ball Mi fai cliccare sulle slime Le slime ball Non le possiamo Craftare Le possiamo ottenere Da raw jelly Che non credo di avere Cioè nel senso Che culo No questo è un rock calamari È un rock calamari Merda Ragazzi Mi trovo davanti A un intoppone Come si fa Come si fa lo slime bucket Uh Fermi tutti Riso e acqua Ci dà la rice slime ball Perfetto Oh Svolta Svoltissima Dove era il mio riso? Sono sicuro di avercelo Non ci provate A dirmi che non ce l'ho Perché altrimenti faccio Un casino mega galattico Riso 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 Forse sta tutto fuori Questo è nitro Però fuori c'è No Non c'è la morte Ok Possiamo andare A vedere se sta qui Riso Eccolo Quindi se io faccio Così No Così Così E mettiamo questa Bellissima Voilà No dove sei? No Era un'altra cosa totalmente Ecco qui Non ce lo dà Perché non me lo dai? Perché è un altro tipo di riso Oh merda Questo è il riso dell'actually Shit Invece noi cerchiamo Ah no è sempre dell'actually Però il rice Ah ok Ok Nessun problema Mamma mia Mi sono cagato sotto Ho detto Oddio c'è un altro tipo di riso Io non so come Come ottenerlo In nessuna maniera Ragazzi Ecco qua Ecco qua Ora il riso Aspetta un attimo Vorrei ripiantarlo Giusto Posso ripiantarlo questo? Sì Perfetto E quindi andiamo a fare Un altro po' di slime Così magari se ci servono Gli sticky Tu vieni con me Gli sticky piston Noi ce l'abbiamo Qui volevo fare Il mulino a vento Della bellissima Immersive Bellissima Fino a un certo punto Perché Certe volte ti rendi conto Che l'immersive Ti vuole Come ha detto un mio iscritto Nei commenti Passa un elicottero Intanto Ciao elicottero Ti rendi conto Che per certe cose Ti fa sprecare Davvero troppo steel Che è un materiale avanzato Ferro e coal Per fare delle pecionate Incredibile Tipo 4000 DRF Davvero uno schifo Allora Il quarzo Dove ho messo i miei pistoni Sono sicuro Di avere dei pistoni Ne sono sicurissimo Perché mi ricordo Una volta Non ci credo C'avevo gli stick piston Ragazzi C'avevo gli stick piston Davvero Ma dai Ma sono Sono un babbeo Vabbè Vabbè Andate bene Va bene Abbiamo Le slime ball Per il futuro Tanto devo ancora trovare Dove cacchio ho messo Quegli altri Allora Andiamo a vedere un po' Questo solderer Come funziona Immagino si vada Ad attaccare A questo Vediamo qui che dice C'è un solderer Che consuma 3 RST Che non ho idea Di che cosa siano Ma va bene lo stesso Grid abbiamo detto No Volevamo un grid Oppure Un crafting grid Sembra molto più complesso Con l'advanced processor Ah Un diamantollo Cos'è successo Ho sentito un ding ding Paurosissimo Diamo un po' un'occhiata Allora Sicuramente servirà la redstone Che non vedo Ne ho un pezzo soltanto Seriamente Di redstone No Dai 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 Ho scavato Ecco infatti Eccola qua Ok Quindi serve Secondo me Silicone Diamante Redstone Mi sa che questo coso È proprio il plagione gigantesco No Questo no Questo sì Eccolo Lo sapevo È il plagione gigantesco Dell'uplet È il printed silicon Meno male Che non è proprio Come l'uplet Perché altrimenti Che palle Vediamo col quarzo Se funziona No Il diamantollo Yes Lo fa E ci serve un construction core Che è il basic Che è quello che ci interessa a noi Printed Redstone E col ferro Ok È un pochino lento Sinceramente Forse Molto 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 lento Grazie ciccio E adesso andiamo a fare quello del ferro Sapete che vi dico Ne faccio un po' E E poi ci rivediamo a frappe Dai Se no ci metto troppo Allora ragazzotti Ho fatto nove di quelli col ferro Sei del diamante E due printed silicon Secondo me ne servivano di più Qui poi ho visto che c'è un disc Quindi voglio fare Absolutamente Il printed Anzi L'advanced processor Che si fa con un redstone Oppela E Mi pare questo Vediamo un po' Si ammazza Se sei lento Figlio della merda Ma va bene lo stesso Va molto bene Qui sembra che ci si possa mettere degli upgrade Vediamo un po' Da qualche parte Deconstruction È proprio identica ragazzi È proprio identica Ma forse è più Si crafta più semplicemente Allora Disc Ok Signori Non abbiamo Altro che da fare Andare a prendere un Pochettino Di Legno Uno Due Tre E quattro Per fare No aspettate Era una chest Disc 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 Era una chest Non quattro Ma otto Benziotto Adesso D'ora in poi Questo indexer Che all'inizio Era favoloso Verrà soppiantato Da questa No Vuoi vedere che questa birch Non me la vede Perché è brutto È cattivo Vediamo un po' Hop Hop E Hop No Si me lo vede Me lo vede ragazzotti Dai è così Tanto direi di fare Uno storage disc Serve questa robetta qui Con Dai non mi dire che serve Il glass Questo qua Oh Shit Oh intanto abbiamo fatto il disc Ottimo Lo mettiamo Qui sotto Full E vabbè Ci hanno messo i disc Mi sembra molto 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 Palese Eh Però Io spero che Che vada bene Anche Il glass Normale Perché altrimenti Stiamo Nella Merda Merdissima Perché dovrei fare Un altro macchinario E non è che Sinceramente Me gusta La mangusta Facciamo così E me ne manda un pochettino Ok Lo facciamo diventare glass Andiamo a vedere Disc E ogni volta si cancella Sta cosa mi sta sul culo In una maniera allucinante No 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 Va bene va bene Va bene va bene Abbiamo il silicone Dovremmo per tutto in realtà Vediamo un po' Un altro di questi Ningù problema Anzi Facciamone un pochino di più Hoppe là Meno male che te ne da 4 E abbiamo Non abbiamo il glass Ma sta arrivando Ecco qui il glass Signori Abbiamo Una parte Di 1k Storage C'è il 4k Che sono 3 di queste Più un basic processor Che va fatto a lì Detta Che sinceramente Mi rifiuto di fare Mentre Stiamo registrando Il cazzo E ti venga cazzo Signori abbiamo Un disco Ma è meraviglioso Ma è bellissimo Ma Che paura Che cos'era quello Non ho capito Le passo il mio marito Ora Qual è quell'altro coso Il grid Il grid dovrebbe essere Il processore Cioè no 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 Scusate l'interfaccia Però abbiamo L'improved processor Che si fa Con l'oro E ne Ce ne vogliono due Poi il Deconstruction Che è il basic Più L'inata del quarzo E poi Il construction Che è il basic Più la glowstone Ah ok Quindi devo fare due basic E due di questi qui Signori Mi metto all'opera E poi ci rivediamo Dovremmo aver fatto Attenzione Emozione Ci dovremmo essere Dobbiamo trasformare Il basic Con una glowstone E il basic Con un quarzo Ne ho fatti quattro Perché si Un quarzo Otteniamo il Deconstruction core E con la glowstone Otteniamo il Construction core Qui dentro Si sta facendo I due Improved Ragazzi Credo Abbiamo finito Ecco il grid Lo mettiamo Qui attaccato Signore e signori Possiamo buttare Dentro la roba Oh mio dio Oh mio dio Cioè E quanto mi sta occupando Il 24% Con solo questa robetta Va bene Va bene Va bene Non è un problema Perché comunque I diamanti si spregano Molto pochi Oddio Probabilmente Per fare questo Quello dopo L'improved No è sempre Uh Predite il 4k Si fa con l'oro Molto 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 buono Signori Che dire È una favola Vogliamo Fare Un pochino Di strafottenza Il crafting Grid Eh Allora questo qui È l'advanced Si fa con quello Avanzato E con Il silicone Che non vedo Non ho fatto Tanti di questi E questi Ci li devo mettere A fare un bel po' Eh Perché Perché il crafting grid Ci permette di craftare All'interno della cosa Quindi Wow Eccolo qui Un avanzato Grid Con una crafting table E il processore avanzato Questo qui È pattern Non so che cazzo significa Probabilmente Per fare l'autocrafting I think I very don't know Ma per ora Non ci interessa Cosa cazzo fa Ma quella è sand Ma ti droghi Marcus Kron Ti droghi molto Non è Pensavo fosse legno The birch E invece no Ok Ragazzotti Allora Bam No Bam Perché no Togliti Sopra Sotto E questo Lentissimo Davvero Davvero Molto Molto Lento Ma Tadam La crafting grid E adesso Non soltanto Possiamo metterci dentro Le cose Ma possiamo craftarle Da qua dentro Ed è Mardaviglioso Signori Io Sono felicissimo Finalmente Un pochino di off camera Per fare I 4k Ma butteremo dentro Tutto qua Tutto E troverà Il vostro Marcus Kron Troverà le cose Anche perché c'è una cosa Di sorting Bellissimo Meraviglioso Signori Questa è la old mod Nuove mod Anche se un po' scopiazzate Dall'appled energistic E ci vediamo Alla prossima puntata Bella regà Ciao